Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Aurora e oggi siamo qui su questo bellissimo gioco meraviglioso allora, andiamo wow, quante belle scarpe ragazzi, mi raccomando se mi volete seguire, seguitemi oh no, c'è questo ok, siamo su Youtube ok, almeno perdo le scarpe ahia, ahia, sono morta allora, non pensate che si muove da solo oh no, scusate, copyright rieccomi ok, scusate ma, era copyright e su Youtube non si può fare assolutamente il copyright perchè sennò ti deduciano ok lo dice anche lei andiamo vediamo fino a che punto al giallo ok, vediamo non vi pensate aspettate rieccomi stavo dicendo non vi pensate che lei si muove da sola perchè la faccio muovere io i movimenti poi lei si muove da sola vedete, tipo questa cosa gliel'ho fatta fare io per esempio sono brutte se le scarpe non mi spavano con la posteraccia anche perchè sono brutte vediamo se poi me le farà prendere ma io non le voglio decisamente oh no, ma dai io le voglio sbloccare scusate, copyright rieccomi scusate faccio rinuncia perchè non voglio di nuovo la proprietà quindi allora le mie scarpe voglio queste e il cucciolo il cucciolo è questo ok andiamo oh aspetta io non lo volevo ok più tardi sto quasi per sbloccare un altro personaggio oh scusate rieccomi ragazzi ok ok io faccio più tardi per me non me ne fregava ok ragazzi aiuto ragazzi stavo quasi andando a morire io ho scelto qua perchè il ghiaccio con le scarpe del ghiaccio non ha una fica secca di senso un fica secco di senso perchè il ghiaccio con il ghiaccio uguale il ghiaccio quindi non ha senso sono solo al ghiaccio perchè ho perso tante scarpe questo è normale ok però con il ghiaccio oh ho sblocchato un personaggio riscatta scusate rieccomi ragazzi mi raccomando però installate questo gioco perchè è veramente bellissimo ok ve lo consiglio veramente ve lo consiglio veramente cioè è la meraviglia dei giochi allora finiamo sempre qui che è la cosa preferita con tutti non so di voi ma la mia di sicuro non si è capito un fico secco non si è capito un fico secco guru 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 andiamo sulla sbarra e ci abbiamo le nostre scarpe ok sono arrivata solo al giallo però vabbè niente ci fa oh no copyright ok ragazzi qui qui ce ne intendiamo della moda vero alle ragazze di sicuro piacerà questo gioco quindi ve lo consiglio ragazze se siete come me alle ragazze piacerà molto questo gioco ma non lo posso fare sono sotto scatto normale scusate riechami ragazzi ok noi ce ne intendiamo di moda oh c'è molto manicomio perché sono in un bar quindi ragazzi non mi facete commenti non mi fate storie per favore come fate sempre perché alcuni di voi mi hanno fatto polare anche a me però che è difficile se non hai questa collezione quella collezione riprova oh no scusate qui eccovi ragazzi ok riproviamoci non vi pensate chi si muove da sola perché non si muove da sola allora io vorrei fare salta tipo ora io ci voglio fare a fare salta così questo scusate eccomi ok io sto sotto il round con la pubblicità infatti ho messo in pausa perché se no ora capirai mi dispiace che non mi riuscirai a vedere ma era copyright e mi denunciavano capite oh mamma mia se riuscirei rimanere così per tutta oh ma che è sta cosa prima non c'erano queste come non oh no sul ghiaccio no aiuto se no se no potevo anche salere oh my god oh my god sono diventata super alta e dai però no e no sono senza che cosa che faccio ragazzi oh no io voglio altre chiavi quindi mette in pausa rieccoci vediamo se qui io ne voglio altre perché la voglio trovare quindi aspettate scusate ok ragazzi oh l'ho trovato e vabbè con tutte le chiavi che ci credo più piccoli più piccoli più piccoli più piccoli più tardi ma ora ce le valli potrei anche ballare mentre le e superare questo questo liberto questo liberto oh 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 no queste no prima non perché oggi non ho mai visto questi così wow a due a due non ho mai visto poi queste no allora ve lo consiglio questo gioco è molto bello per tutte le femmine del mondo e io come faccio perché c'è un po' e io mi sono abbastanza stacchi oh vabbè riecoci ok andiamo questo è un vero video che bello che bello scarte ma dove siamo si nasce vi immaginate nella vita che si nasce povero cagnolino diceva dove siano andate la mia padrona oh no ma io come faccio non ho abbastanza scarte facciamo riprova oh no pubblicità ok ragazzi non è stata la pubblicità è solida ma io non avevo abbastanza scarte ora io non ci salgo più oh no però sono saluta riprova però stavolta non voglio pubblicità nel sacco ok ragazzi eccomi oh no ma che sta con non lo puoi mai fare ora c'è lei sì infatti la pubblicità era sia per salta sia perché dovevo prendere lei ecco oh no ma prego si nuove ragazzi ok però allora ragazzi questo video sicuramente credo che è troppo quindi ciao alla prossima ciao 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 ciao